Poi per Barbara D'Urso, è un segnale di tornare a un'informazione più sobria di quanto non fosse prima? Il fatto di non rinnovare il programma a lei? Ma no, è il segnale di guardare avanti, ma non è una punizione per la D'Urso. Cioè, io onestamente di questo non lo parlo. No, come politica editoriale, se è più... Certo, il passaggio da la D'Urso alla Merlino va in un senso di un prodotto più giornalistico. Quindi sì, questo però, ho visto che molti di voi hanno scritto, l'avevamo già detto l'anno scorso, è un'evoluzione che man mano portiamo avanti. E poi, anche come si fanno i programmi, è ciclico, quindi anche qua bisogna vedere. Però in questo momento, secondo noi, è giusto dare più peso anche a questi contenitori.